Eccoci live anche questa sera o questa mattina a seconda dal fuso, salutiamo chi è già connesso, Cuni, Tiera, Giugiu Giarlo, Giacolante, Francesco, Michele Seste, Corrado P, Davide Gigi, salutiamo anche tutti gli amici Flora soprattutto che sono la Dipcon, che se la godono a Fiugi e soprattutto salutiamo Leo Sorge che pure lui conosce l'ambiente della Dipcon, giornalista tecnologo, abbiamo avuto su queste pagine virtuali in passato anche su Scientificas. Ciao Leo, grazie di essere qui con noi. Buonasera a te e buonasera a tutti. Sì, un po' più di allegria, non è che t'ho costretto. E un bacio al generale Flora, no te l'ho chiesto io di fare questa cosa. Il generale Flora di Girobo, infatti, un grande classico. Ecco qua c'è anche, non mi ricordo più dove ero fermato, Corrado P, Michele Sesta, Davide Gigi, Cuni, Antostè, Alessandro Mancini e Marcello Fierro. Guerra di Cip, sì no scherziamo, insomma l'avevi chiesto tu nel senso che comunque era un po' il periodo di tornare sul discorso. Ecco, l'intelligenza artificiale è sempre, aspetta, aspetta, ti metto, che però deve speculare. Così io leggo, Row Chip. Io, che va benissimo, Chip Grezzi, io invece lo vedo normale. È un piacere per te, però. Va bene, devi mettere. Non so, non lo posso. Ah, mi devo specularizzare io, secondo te. Sì, sì, visto che sei giornalista tecnologico, vediamo se riesce a fare questa cosa. No, ho capito, ma non è che siccome cosa cosa, allora le cose cosano. Però io mi vedo in video, vabbè, comunque. Vabbè, comunque non fa niente. Intanto saluto anche Alessandro e Andrea Ozzi. E appunto l'idea è, vabbè, eccolo, vedi, rimetti, rimetti Row Chip? Ecco qua. Adesso io mi vedo Row Chip, però siate bustofetici e antonimici, siate buoni. Vabbè, l'intelligenza artificiale è un termine abusato, l'abbiamo parlato tante volte, abbiamo fatto anche vari video, insomma. Abusato per abusato, con tutte anche le dei faianze di Gemini, che erano spassosissime, anzi, proprio con te che cercavo di fare la manuenze che scriveva, la manuenze medievale, quello era una manuenze bianco, uno donna indiana, uno asiatico, perché doveva essere inclusivo, insomma. Cosa abbastanza imbarazzante, per cui, però, oramai, l'AI sta arrivando. Saluto anche Rosa e ti do la parola. Vai, Leo. Buonasera a tutti. In realtà è successa questa cosa. È uscito questo libro del quale proparo la copertina, a fine anno scorso, in italiano a inizio di quest'anno, che si chiama Chip War e rilancia un fantomatico filone sulla guerra dei chip. Ora, per chi, come me, ha una certa età, la guerra dei chip era un'altra cosa, era la guerra tra produttori di chip. Siccome però è una cosa del passato, a differenza di quanto piace a te, non ne parleremo. In realtà questo libro è un libro che, o almeno io cercherò disperatamente di contrastare te che ne vuoi parlare. Io partirei da Babbage, però. No, no, ma Babbage, tu puoi babbettare tutto quello che ti pare. Per esempio, siccome i Magia non avevano la B, ma partivano dalla C, gli Staneri, li chiamavano Cicci qualcosa, perché la prima consonante era la C e quindi non balbettava, non erano barbaro. Chi è che non avevano la B? I Magia. E chi sono i Magia? I Magia, quelli che noi chiamavano. Ah, I Magia. Non mi ricordo com'era Cicitelli, Cicimeli, una cosa del genere. Allora, questo signore si chiama Chris Miller, ha fatto un libro sulla Guerra dei Cip. Uno si aspetta che sia una cosa che, come dice il titolo, la sfida tracina e usa per il controllo della tecnologia che deciderà il nostro futuro. Sono 360 pagine di testo, più note varie, eccetera, di Guerra dei Cip. Ne parla per 60 pagine. Per il resto è tutta la preistoria, quella che piace tanto a te e che, avendo io per 20 anni cercato di vendere con i miei libri, ed essendo stato trattato malissimo da chi che sia, che con... normale. Fanno sempre 50 punti, comunque. Ovviamente normale, però lui si chiama Miller e pur non... come dire, di mestiere, facendolo storico, è riuscito ad avere un successo mondiale su un libro che io le prime 240 pagine non le ho lette. Perché c'eri, tra l'altro, no? No, io c'ero e non solo c'ero, ma ho visto se le fonti che prendevano erano le stesse e sono sempre le solide, perché non è che retroattivamente escono libri del 65 su Cip, i libri sono quelli. Però quello che mi interessa in realtà e che mi ha suscitato questo Cip, questo libro, è... non è Cip War, è War Cip, cioè sono i Cip della guerra, cioè che rilevanza sta avendo nella guerra e come si fa la guerra adesso a partire dalla microelettronica e da quella che chiamiamo intelligenza artificiale, perché ormai la guerra si combatte a distanza con droni, con dispositivi telecomandati, eccetera, eccetera, che vengono eseguiti e elaborati da Cip. Ora, Chris Miller mi fa venire in mente due cose. La prima è che lui è uno storico, è un laureato in storia moderna, è un esperto dei rapporti con la Russia e chiaramente si è trovato spiazzato da quando la Russia ha abdicato in tutti i modi alla tecnologia. Tu sai bene che per quanto riguarda la fisica la Russia è sempre stato un paradiso. E l'astronautica? Eh, l'astronautica è fisica, è fisica, è fisica, è fisica vera. Allora, si potrebbe arguire che l'astronautica è fisica del Cinquecento, perché è Newton. E va bene, sicuramente. Saluto Stefano e Vincenzo. Sicuramente. Però in tempi moderni, cioè, come dire, Newton ci ha spiegato, io dico sempre che Newton, tra le tante cose che ha fatto, la cosa principale è che ha portato la scienza, la fisica, la chimica, eccetera, eccetera, al di fuori dell'uomo e sulle stelle. Quindi ci siamo dimenticati di quello che succedeva sulla Terra per capire come funzionavano i pianeti e le stelle e poi via via. Quello è il filone che ha preso la strada. Quindi invece di pensare a curare la gente, abbiamo mandato altri sulle stelle nei pianeti. Magari, magari. Magari. Viene vini dietro l'angolo, però siamo usciti dall'orbita, diciamo così. Quindi, Chris Miller, storico dei rapporti tra USA e URSS, autore del testo Putinomics, del quale avremmo fatto volentieri a meno, e che in realtà di fatto, io l'ho sfogliacchiato, così, eccetera, eccetera, è una collazione di articoli precedenti. Anche questo, anche questo C4 paga questo pegno, ma molto meno. Questo è strutturato come lavoro. Mentre Putinomics è una collazione di articoli precedenti nei quali dice delle cose con impostazione vecchissima, quindi nessun punto di riferimento per il futuro. Poi è diventato autore di articoli per vari giornali importanti americani sulla tecnologia e ha scritto questo libro. L'altra cosa che ci porta a parlare di chip in guerra, di guerra dei chip. L'altra cosa è che Miller, adesso io questo lo dico per i pochi che possono seguirmi, ammesso e non concesso che è quello che ho detto prima. E vogliono seguirti. No, vogliono è un problema loro. Se non riescono è un problema mio. Miller è il mugnaio. E anche Mongai era una deformazione della parola mugnaio. Quindi il mio caro amico Massimo Mongai, scrittore di fantascienza, al quale tanto devo, ha lo stesso cognome. Questa me la diceva lui, per altri Miller, diciamo. Frank Miller, immagino. C'erano troppi fili, andavano e che avvenivano. Innanzitutto, fammi fare tutta una serie di parentesi, perché se no, Massimo Mongai, tra le varie cose, è autore di Memoria di un cuoco dell'astronave con cui ha vinto il premio Uranio. È completamente fuori tema questo, però se lo recuperate, leggetelo perché è divertentissimo. Dovrebbe essere ancora gratis, scaricabile da Liber Libero, qualunque manifestazione che sia derivata. Perché è una space opera ironica che, di nuovo, come tanti lavori italiani, se fosse stato in un contesto anglosassone, avrebbe avuto fatto il film, eccetera. Io ho passato mezza giornata con Douglas Adams e ti garantisco che Mongai era molto più divertente. Sì, 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 perché poi appunto lui tra le varie cose, a parte ci mette le ricette proprio su come fare le ricette spaziali dentro questo libro qua, ma poi essenzialmente i vari, le varie razze spaziali straniere erano i vari, c'erano i Garbatello, c'erano tutti, cioè tutti i quartieri di Roma, quindi era una cosa molto spassosa, effettivamente, a livello di Douglas Adams che era più famoso. Era Gurb, non era i Garbatello, era Gurb. Gurb, eh. Questo è uno. L'altra cosa da dire appunto è che con l'Eosorgia avevamo fatto anni fa, insomma, manco quanti, una, eh, prima di tutto sto boom dell'AI, eh, una presentazione sul lavoro contro il futuro, che è un testo scritto da lui con collaborazione anche di altri collaboratori. Anche tua. Anche mia, mio malgrado. Eh, però appunto in cui si anticipava il fatto che tutta una serie di lavori sarebbero stati, eh, resi obsoleti dall'avvento delle intelligenze artificiali, riprendendo un testo di Kai Fu Li, che è un altro dei guru cinesi che stava anche, eh, cioè, Taiwanese, ma non ci avviciniamo a questo argomento. Quello è l'argomento, invece. E, 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 cerchiamo di girarci intorno. E, però, stava a Stanford, insomma, eh, viene da una formazione anche americana, quindi conosce in trame gli ambienti e, e lui appunto per primo aveva anche, eh, risancito questo, questo, questo problema qua. E poi c'ha una start-up, di cui poi immagino ne parleremo, una start-up, insomma, una ditta da qualche miliardo di dollari, non so neanche se chiamarla start-up, in cui fa i chip e fa l'intelligenza artificiale. Quindi, insomma, un contesto in cui, eh, in generale, eh, anche in tempi non sospetti già si vedevano le avvisaglie, eh, di questa evoluzione. Prima di darti la parola c'è da dire che è interessante perché, parole abusate o no, a intelligenza artificiale, eh, ai gemini, defiance, eccetera, eccetera, è interessante perché stiamo assistendo un po' alla crescita che veramente è esponenziale. Cioè, a un punto di curva in cui non è chiaro come si evolverà la cosa e, appunto, i chip, sia in un contesto bellico che in un contesto pacifico, che però, appunto, chi era? Clausewitz, la guerra, la continuazione della diplomazia. Clausewitz. Eh, e quindi, adesso, eh, non posso dire mi touch a... Su, su, a seconda della tua gioia. Su, su, beh, su, su. Ti ripasso la parola, ma, insomma, un minimo di introduzione, anche se tu la odi, aborri. Eh, no, vabbè, insomma, non... E nel leggere questo libro, eh, allora io ho fatto anche una, una, eh, video presentazione di questo libro che sta sul mio canale YouTube. L'ho fatta anche per verificare, eh, come si usano questi strumenti che tu gli dai la foto e loro ti, mh, fanno parlare in qualche modo sincronizzando la voce con quello che dici. E... però sostanzialmente nel leggere il libro ho visto che il ragazzo ha studiato, devo dire, ci sono delle parti di una... tecnologiche raccontate molto bene. Per esempio, quando lui spiega, eh, cosa fanno, come si generano gli ultravioletti e gli extremi ultravioletti delle macchine di AMSL che fa adesso, eh, la parte ultravioletta dei chip, eh, io posso auspicare che gliele abbia scritte qualcun'altro, perché sono di una bellezza e di una correttezza assoluta. Sì, magari poi ci andiamo, ci abbiamo preso qualche... Poi ci andiamo, mentre, quando parla di altre cose, tipo il 5G, passava dell'ipercaso e gli hanno detto che c'era il 5G, però, sai, è una tecnologia futura, non l'abbiamo capita bene, quindi diciamo ci sono... però, e questo è irrilevante, perché che si chiami 5G, NG o roba del genere, va bene come lo spiega. Eh, quindi, però, diciamo, al di là del fatto di questo libro che alla fine della fiera... cosa succede? Qual è il quadro? Perché si chiama di guerra dei chip. Perché? Per una serie di motivi, eh, una percentuale rilevante, ma non vorrei entrare nelle percentuali perché, in caso mai lo facciamo dopo, perché quello che viene raccontato normalmente io lo trovo estremamente fuorviante. Comunque, una percentuale rilevantissima. Sia dei chip di fascia normale, sia dei chip di fascia alta del mondo, viene prodotta nell'isola di Taiwan, che ha appena fatto le elezioni e che la Cina ha sempre considerato parte sua e che la Cina riprenderà. Adesso io non ti so dire se succederà nel 2024 o nel 2025, come ciò succederà. Però succederà a breve. Siccome gran parte di tutta la crescita mondiale dei chip è prodotta da delle fabbriche di questa società, la TSMC, che ha sede principale in Taiwan... E le fabbriche soprattutto, cioè non è solo... Però, allora, stanno succedendo tutta una serie di cose per togliere parte delle business e per non aggiornare le fabbriche di TSMC senza danneggiare il mercato mondiale, in modo tale che quando la Cina ne entrerà in possesso, troverà una... non dico una scatola vuota, ma una cosa difficile da aggiornare perché nel frattempo ci sono i ban americani seguiti da olandesi e giapponesi che fanno queste fabbriche e questi macchinari per la produzione dei chip, per cui non potranno essere aggiornate le fabbriche. Io personalmente penso che questo sia un percorso più o meno concordato tra Stati Uniti e Cina. Allora, ti fermo solo un secondo perché volevo condividere il tuo canale YouTube dove c'è appunto questi video e queste cose qua. Tra l'altro, tanti anni fa abbiamo parlato anche del primo chip, tu dall'alba dell'uomo non ci vuoi andare, ma insomma il primo microprocessore direi Olt che stava sull'F14, tanto per restare in tema di chip per la guerra. L'F14 era un caccia americano, quello con il quale bene o male bombardarono il Vietnam, che fu il primo... Più male che bene, forse. Eh? Più male che bene, nel senso... Più male che bene, però non è che puoi fare questo ragionamento, è che è rimasto sotto embargo per trent'anni, fino a quando non è stato detto a Olt che poteva parlare e quindi la raccontava. E restare vivo facendolo. Noi diciamo, noi, Olt, Ray, dice che è il primo chip, ma lui sa benissimo che in quel periodo esistevano altri chip... A noi ci viene raccontata tutta questa storia della legge di Moore, dell'Intel, di Fagin, non voglio entrare in questi discorsi. Prima del 4004 esistevano degli altri chip più o meno militari, più o meno riusciti, tutti con la stessa struttura di quello che è il 4004, che non è un single chip, perché erano quattro chip, non è un general purpose perché è nato per fare i conti, ne esistevano degli altri che hanno avuto meno fortuna commerciale, meno persone che ne hanno potuto parlare successivamente. Per cui Ray sa benissimo che ce ne esistono altri, continuo a trovarne altri, per cui ci viene raccontata una vulgata, va benissimo così, sicuramente prima del 4004 esistevano altri chip, quello del quale si è parlato di più è stato questo chip, l'MP944, progettato da Olt e da uno staff di Olt, che fu capitanato da questo all'epoca giovanissimo studente, infatti il suo libro si chiama The Accidental Engineer, l'ingegnere per caso insomma, lui sa benissimo che ce ne sono stati altri, eccetera, che 18-24 mesi prima di quello che diceva Moore, che sapeva benissimo di queste cose, facevano dei chip in tecnologia inferiore, questo va detto, sì esattamente il primo chip commerciale, più che civile, con dei risvolti tecnologici che gli altri non avevano perché erano fatti in logica PNP, non NPN, con tecnologie inferiori se vogliamo, ma sempre di 6-7-8 mila transistor per il sistema complessivo, eccetera, eccetera, quindi in tutto ciò le intuizioni di Fagin hanno cambiato la storia, altre cose possiamo discutere, però dire Tukur che è stato quello dell'MP944, è stato il primo chip della storia, Tukur non è vero, faceva parte, come quando è stato fatto il telefono, c'erano una decina di telefoni più o meno simili in giro per il mondo, poi arriva Meucci e fa il suo, eccetera, più o meno funziona così, insomma. Meucci, Meucci Forever, saluto anche Baby Mancraft e Salvatore, c'è da dire che quando lui, perché l'abbiamo incontrato, l'avevi fatto venire, c'è anche il tuo libro appunto di accidenti d'ingegneria, la cosa... E il suo libro al quale io gentilmente sono stato chiamato a collaborare. Scusi, mi perdoni, esattamente, la cosa pazzesca è che ci feci vedere il layout del chip. Ah io ce l'ho fatto. Su sti fogli A3, A4, disegnata a mano con tutti... Sai quando noi facevamo a Dungeons & Dragons le mappe del dungeon, è quello che faceva il layout per tracciare le linee. Ora come vedremo appunto TSMC e ASML sono andate, appunto, una crescita anche quella seguendo più o meno la profezia autoveranza, si dà la legge di Moore, pazzesca. Oltre al canale di Leo, se siete interessati all'argomento, vi suggerisco Asianometrics, che è un canale di un... Serio, sì, di Taiwan, che si occupa soprattutto di chip ma in generale di... di tecnologia in un contesto del sud-est asiatico, economia e produzione appunto tecnologica di questi in quel contesto lì e fa benissimo, ma molto meglio di come faremo noi, anche se ci proveremo, tutto il contesto ASML, TSMC e così via, cioè gli ultravioletti come vengono fatti così via. Comunque ci proveremo e... ecco, ci dice, dice, saluto anche Marco Ricci, ma alcuni dice, su internet gira il progetto disegnato al Maro del 65-02 di, credo che sia una faccina, non credo che sia... Sì, 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 quella è una faccina che mi dice. Scherzo. Vai Leo, scusa se ti interrompo sempre. No, no, figurati. Ho provato quindi, nel leggere questo libro, ho provato a mettere insieme un po' di informazioni sotto forma, ahimè, di slide. Ai noi, no, ai noi. Ai noi, ai noi. Ti aggiungo, eccolo. Questo è soltanto perché per una serie di motivi sto facendo dei video e questo l'ho fatto con un paio di sistemi che articolano la bocca. però qui c'è la mia audio-recensione, video-recensione. Comunque, cercate, cioè, se cercate Leo Sorge la trovate, insomma, su YouTube. Costui è da piccolo, non è adesso, ma insomma non ha tanti anni di più perché si è laureato credo nel 2009, quindi... E questo Chris Miller che nel frattempo è andato all'università e che ha fatto questo libro che io ho schifato in versione inglese perché nella mia testa la guerra dei chip non esiste. Esistono i chip di guerra, ma questa è una mia personalissima visione. Di Chris Miller vi ho già detto, autore del libro Putinomics e dopo di questo chip war e per capirci della tecnologia di questi tempi e di quello che lui riesce a spiegare bene io speravo che Marco ci aiutasse con la fisica, ovvero sia noi siamo abituati a pensare che i chip sono fatti con varie fotografie più o meno ridotte di maschere di sostanze che vengono in vari modi o deposte o inserite dentro a una base di silicio che sono questi wafer circolari e attraverso interazione di vari tipi di luce sostanzialmente ultravioletti però via via è sempre stato più difficile fare chip sempre più piccoli perché in realtà gli ultravioletti non sono così piccoli allora si usano dei fenomeni fisici che conseguono dall'uso di più raggi di ultravioletti che la cui interferenza genera un raggio equivalente dell'energia più piccola dei raggi di origine l'energia più alta, la frequenza più lunghezza più alta quindi a lunghezza più piccola allora c'è questo scusa se ti interrompo, non mi ammazzare questo video qua ovviamente non lo possiamo far vedere perché sennò copyright strike di CNBC però quello che possiamo far vedere se sei d'accordo sono alcuni frame grab che in qualche maniera cercano di mostrare questa cosa qua che dicevi tu cioè di come si producono i chip la cosa bella è che da qualche parte ci deve essere una fonte di raggi ultravioletti questi raggi ultravioletti vengono messi in contrapposizione con fenomeni tipici come quelli che in audio noi chiamiamo i battimenti quindi se tu metti due frequenze di un certo tipo insieme queste generano tutta una serie un inviluppo tra i quali alcune frequenze sono di frequenza più alta e quindi siccome la frequenza è inversamente proporzionale alla dimensione possono andare ad agire con un raggio più piccolo insomma con un'operazione più piccola quindi un'onda che ha una lunghezza d'onda così può fare un raggio più piccolo e se l'energia la cosa è studiata in modo tale che l'energia massima sia quella di quella piccola frequenza di quel battimento allora quella è l'energia che agisce proprio sul silicio o sul materiale sottostante fino a un certo numero fino a un po' di anni fa gli ultravioletti venivano generati più o meno con delle lampade quindi c'era una sorgente più o meno tranquilla per raggiungere le dimensioni attuali e sulle dimensioni attuali magari poi spendiamo due parole due non si può fare più così allora si prende un materiale pretrattato probabilmente adesso è quello che si usa è lo stagno lo stagno viene deposto in una certa situazione tramite un primo irraggiamento laser a goccioline queste goccioline vengono lanciate per aria e ognuna di queste goccioline infinitesime viene vaporizzata la vaporizzazione e qui abbiamo bisogno del fisico ottico la vaporizzazione in qualche modo libera un'energia che è quella delle particelle che diventano energia rispetto all'energia stante della vaporizzazione e questa energia per il rapporto tra energia e onda diventano gli ultravioletti estremi farne tanti quanta mila volte al secondo non è così semplice e fare la frequenza giusta soprattutto allora c'è da dire che la definizione ultravioletti raggi X e raggi gamma è completamente arbitraria essenzialmente ci si muove in maniera continua a frequenze sempre più alte le lunghezze d'onda sempre più piccole più il chip è piccolo più alta deve essere la frequenza e più bassa deve essere la lunghezza d'onda e fino agli ultravioletti si riesce a fare le lenti e gli specchi andare ancora più su si va nella direzione in quelli che noi chiamiamo raggi X in realtà sono raggi X quelli che noi chiamiamo sono raggi X X deboli però puoi mettere extreme ultraviolet rispetto a X muscio ma quello è essenziale è un elemento di marketing è essenziale perché Intel ha saltato la generazione intermedia tra ultraviolet e ultra H ultraviolet extreme ultraviolet high energy extreme ultraviolet allora che succede? attualmente Intel è andata indietro perché dopo aver sforaggiato a SML e tutte le altre aziende fino a un certo punto ha saltato una generazione che invece DSMC ha preso i coreani i taiwanesi hanno preso e quindi adesso per far Intel invece ha investito su questa nuova generazione ulteriore gli extreme gli H prima ancora che fosse pronta sperando che andasse tutto bene pare che sia andato tutto bene e però per far vedere erano più forti doveva essere ci doveva essere un altro super oltre al super super che aveva DSMC per cui non li vogliono chiamare come si chiamerebbero normalmente in fisica comunque appunto sono ecco poi c'è da dire che la SML che tu citavi è una ditta in Olanda poi vediamo come è olandese è una holding che fa capo all'Olanda però che fa che fa l'ottica mentre DSMC è la ditta che si compra queste macchine ovviamente è infinitamente più complicato ora lo racconterai meglio che si prende queste macchine e fabbrica i chip e l'altra cosa da dire è che DSMC fabbrica i chip per tutti ma non di loro design quindi loro non è che come la Samsung non è però come la Samsung che fa i chip per sé e anche per altri quindi poi c'è il rischio che dà la precedenza ai suoi è tutti uguali Intel invece che per tanti anni ha prodotto solo per sé adesso ha diviso il business in due attività ma questo è necessario perché devono portare devono portare parte del business di TSMC lo devono portare in America e quindi Intel in un modo o nell'altro è stata convinta a a fare una parte del business contro terzi ma anche perché tutta una serie di discorsi che ce l'hanno hanno a che vedere con la guerra Intel ha quasi sempre ufficialmente rifiutato di fare i chip militari mentre adesso adesso li farà quello era il business che prese AMD Jerry Sanders raccattò prima un po' di lavoro quando gli dissero non c'era spazio per un'altra azienda nel 69 raccattò lavoro prendendo qualunque cosa tra cui i chip militari e Intel ha sempre ufficialmente rifiutato adesso li devono fare perché c'è la guerra ed è la stessa cosa che succede in tante nazioni non vorrei dire anche in Italia per cui progetti come i chip militari o i chip spaziali che sono piccole quantità sono piccoli lotti sono centinaia migliaia decine di migliaia non fanno un miliardo di pezzi come fanno gli altri come fanno per i chip commerciali però bisogna farli in casa in qualche modo e però l'attività non può vivere di quello mentre il Pentagono come vedremo che lo dice anche Miller ma insomma non ha bisogno di Miller quando Ray dovette fare il chip per l'F14A a un certo punto nessuno glieli voleva fare perché non interessava e quelli il committante si comprò una Foundry fece i suoi chip finito il business del chip si rivendette la Foundry però ed è questo era un committente non era il Pentagono oggi come oggi il Pentagono non ha i soldi per gestire una filiera anche perché ci sono cifre di decine di miliardi sono decine di miliardi come vedremo io ho provato in questa occasione a scrivere il numero si ci sono c'è tutta una serie di io più che altro sono qui per farmi delle domande non darmi delle risposte e quindi tornerei alle slide perché mi aiutano nel fare le domande le devi ricondividere poi tra le varie domande mentre ricondividi le slide c'è quella di Cuni che dice l'Europa che fa e vedremo anche che fa l'Europa l'Europa che fa ho paura a dire che fa l'Europa tu vuoi che io condividi ma non è che io voglio però tu l'hai detto coran popolo allora condividi schermo io condivido lo schermo che è questo attento lo schermo che condividi sto condividendo stessa aspetta ti devo aggiungere allo stagio vai sto qua non so che sto facendo però forse si 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 allora ho lanciato una cosa tutta cervellotica una non newsletter su questi argomenti per un po' di mesi perché effettivamente è un momento nel quale ricicciano chip da tutte le parti e quindi per costringermi a studiarli devo raccontarla a qualcuno quindi ho fatto una specie di newsletter mensile peraltro mi dovessi affaticare allora quando noi parliamo di chip parliamo di chip per varie necessità ci sono gli high performance computing ci sono i cosiddetti chip dell'intelligenza artificiale quindi di questi data center che eseguono sostanzialmente calcolo matriciale nel caso del training e altre cose nel caso dell'uso dei modelli una volta che sono stati allenati trained auto drive allora a me è guida autonoma delle auto in realtà quelli sono dei chip fantastici che sono quasi tutti proprietari e dei quali si sa pochissimo io ho visto il tesla il nio eccetera sono dei chip molto interessanti ho chiamato body set tutti quelli che sono dell'elettronica di consumo per noi quindi i computer gli smartphone le realtà virtuali aumentate eccetera eccetera quindi una cosa sono i chip questi sono per potenza da sinistra a destra il più potente al meno potente è chiaro che un chip molto forte di una categoria può essere più forte di un chip debole della categoria precedente ma diciamo non vale la teoria di gruppo per fare la guida autonoma ci vuole una certa potenza per astare dentro i veicoli dentro qualunque tipo di veicolo dal drone alla nave all'aereo ci vuole una potenza più ridotta poi ci sono gli elettrodomestici ora io lo so che fa strano ma i missili satelliti e i droni sono degli elettrodomestici dal punto di vista digitale e buona parte dei chip russi dei missili russi è equipaggiato con i chip che si usano normalmente per le lavatrici beh fu storico Saddam che si era comprare playstation 2 ma quelli erano potenti cioè qui stiamo parlando di chip che sul mercato stanno a 50 centesimi 80 centesimi un euro perché due no e poi ci sono i sensori che qualunque cosa possa voler dire voler dire sensori quindi noi ci muoviamo in questa direzione la prima affermazione che fa Miller che secondo me è stata rilevante la fa a pagina 363 la più rilevante una Silicon Foundry avanzata costa oggi due volte una portaerei anche più di due volte una portaerei una portaerei grande una portaerei piccola sta a 2 miliardi la portaerei piccola non ci fa niente lui dice praticamente la portaerei costa tra 1 e 10 miliardi la Silicon Foundry avanzata costa una ventina di miliardi ma qui quando noi parliamo di costo noi dobbiamo poi io ho provato a fare una serie un'organizzazione dei costi una cosa è il costo di avviamento quanto mi costa dire da oggi produco una cosa è quanto costa gestirla quanto costa aggiornarla quanto vivrà e questo dipende dal tipo di business però mentre la portaerei appunto ha un life span una vita abbastanza lunga dopo un paio d'anni la Silicon Foundry non dico che te la dai in faccia ma nel frattempo hai investito appunto siccome per esempio i nuovi i nuovi macchinari della ASML costano 350 milioni di dollari in uno non è che tu ne abbia tanti però hai tutta una serie di macchinari per fare un chip oggi ci vogliono è un processo che è fatto di mille step alcuni dei quali sono tutt'altro che ovvi ed usano dei materiali di preparazione che magari si fanno in una o due nazioni quindi come vedremo controllare oggi la filiera della microelettronica è impossibile per la Cina figurati per gli altri un'altra affermazione che fa a pagina 305 è questa che stavamo dicendo e della quale abbiamo già parlato la guerra del futuro dipenderà sempre di più dai chip perché non si fa più una guerra si fanno anche delle parti di guerra diciamo più o meno convenzionali però in realtà metti in piedi una serie di sensori satelliti droni di vario tipo sott'acqua sopra acqua eccetera eccetera per cui fai tutto un controllo dei dati che con software di intelligenza artificiale a loro volta eseguiti da super computer che non si chiamano super computer ma computer data center specializzati nelle AI che devono avere dei cipponi per le AI e si fa con i chip e ancora no ancora non stiamo lì allora non è vero che non stiamo qui non è operativo vabbè no nel senso che non l'abbiamo visto in una guerra non l'abbiamo visto in una guerra però c'è chi dice che lo stretto di Taiwan è oggi controllato in questo modo da una serie di stazioni e dispositivi e droni la parola la parola droni è molto divertente però diciamo di dispositivi non unmanned senza senza personale che più o meno sono gestiti così con i quali la Cina sta cercando di colmare un gap di dati perché la Cina ha un miliardo e mezzo di abitanti contro i 350 degli Stati Uniti per cui ha dal punto di vista civile molti più dati ma dal punto di vista militare ne ha pochissimi e quindi ha bisogno di dati per i modelli di gestione però la guerra che purtroppo adesso attiva tra Ucraina e Russia si fa con i droni e questo è molto interessante infatti molti degli studi si basano proprio su questo cioè sul fatto che in realtà con i satelliti e con i satelliti per le telecomunicazioni per controllare per il puntamento per il puntamento e per il puntamento quindi infatti diciamo lì poi la posizione di Elon Musk è abbastanza tosta da gestire in questo momento però ripeto nel frattempo buona parte del pattugliamento è fatto così quindi si chiede non se lo chiede così esplicitamente però se lo chiede anche 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 Miller se la Cina può diventare l'IDNCIP questo è un discorso molto lungo la mia risposta è sì il fatto che lo abbia già fatto per i pannelli solari non è rilevante perché il pannello solare è un pezzo di plastica esatto per i pannelli solari aveva materiali e tutta la filiera sotto controllo per esempio è divertente pensare che praticamente tutti i software con i quali si fa la progettazione di CIP sono americani e se infatti c'era la domanda sul layout sul software per fare le e se io non ti do c'è qualcosa di tedesco e il resto è tutto americano per cui c'è un discorso è molto complessa la filiera la filiera dei CIP ma la Cina in realtà perché si parlava di TSMC della percentuale esprimevo dubbi sulla percentuale di CIP fatti da TSMC nel resto del mondo i dati sono sempre incompleti però i CIP di fascia alta sono pochissimi il 3% quindi se tu ti chiedi se noi ci chiediamo se la Cina può diventare immediatamente lì nei CIP di fascia altissima ci vuole tempo negli altri purtroppo io temo che nei prossimi tre anni lo diventerà perché la Cina ha messo in piedi prima degli altri l'equivalente del CIP SAC italiano europeo ne ha fatti già due ma soprattutto l'embargo fatto da Trump perché Huawei faceva delle cose spionaggio eccetera eccetera l'embargo per i macchinari dei CIP imposto non solo alle case americane ma anche appunto all'ASML che fa capo all'Olanda e alle società che fanno i macchinari per le memorie che stanno in Giappone come tu dovresti sapere questo 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 embargo vale solo per le tecnologie più avanzate ma il 97% dei CIP sono di tecnologie che girano oggi sono di tecnologie di dieci anni fa otto anni fa anche perché la parentesi che in parte risponde alla domanda di Cuni in tutto questo e roba che fa poi c'è oltre al CIP Intel questi ad alta performance c'è tutto il canale ARM che nasce dal BBC inglese di nuovo tu dall'alba dell'uomo non vuoi andare però in realtà nasce dall'Acon che poi diventò BBC BBC mi scusi vado a cospargermi il capo di cena tu intanto vai nasce dalla ghianda allora all'epoca si comunicava anche con questo si comunicava per posta proprio mandavi le lettere e quindi ti rispondevano va bene e beh Bege fu quello che disse guardate che la francatura che la francatura in Regno Unito uniforme per tutto il Regno Unito ti fa risparmiare rispetto alla francatura dipendente dalla distanza oltre a fare appunto il computer meccanico che poi era all'avanguardia vedi che a Bebege ci siamo riusciti a citarlo ma tu tu puoi citare Bebege in qualunque momento io lo so e come dire nulla toglie al fatto che nulla di ciò che è successo prima del 1990 per venirti incontro abbia senso e invece dopo quindi la Cina può diventare leader nei chip la Cina in questo momento ha a seconda delle fonti tra 30 e 60 ma non sappiamo che succede nelle università nuove piccole foundry che fanno che producono chip con i macchinari americani e che producono quei chip per i quali magari dopo ne parleremo l'Europa dice di avere un piano come i Siloni di Galactica che poi il piano non c'era il piano non c'era no ma il piano c'è di lì in Galactica no Galactica no già da fine io penso già da settembre arriveranno sul mercato chip cinesi per l'automotive cloni dei chip cloni nel senso che fanno le stesse cose dei chip tedeschi a un prezzo chiaramente molto ridotto e probabilmente ridotto ancora ulteriormente dal fatto che la Cina farà dumping permetterà di di non pagare i tassi se quelli li vendono a prezzi ancora inferiori quindi cominceremo a ridere la quantità di chip di questo tipo che può produrre la Cina è incalcolabile senza contare che non c'è solo la Cina noi ridiamo e il Vietnam sta a 100 milioni di abitanti il Vietnam sta facendo fabbriche come se piovesse e via discorrendo e dobbiamo vedere come in tutto questo si inserisce l'unico vero nostro grande problema che è l'India che non è la Cina l'India comunque va bene per la tua gioia ci si può chiedere e per gioia anche di Miller che ne parla pochissimo perché la Russia non è leader nei chip la Russia ha provato a essere leader nei chip chi ha tempo da perdere prego nel 70 no anche anche intorno al 2000 per chi ha tempo da perdere si può cercare la storia di Skolkovo che è un centro era un centro di eccellenza fatto proprio per questo il problema è che se il tuo oligarca deve fare semplicemente box moving di navi barche container di petrolio gas non c'è valore aggiunto ti dà una quota a te e tanti saluti può funzionare anche se lui fa qualunque sfracello se c'è una filiera come dicevamo di mille passi tante care cose hanno provato e non ce l'hanno fatta e quindi hanno un grosso problema è sempre stato un grosso problema anche alla fine della guerra fredda è un po' da attribuire però prima senza tornare nel passato c'è stato un periodo nel quale hanno avuto degli straordinari chip nei quali producevano mille pezzi perché di più non riuscivano a fare però c'è il Baba Yan è un nome che ha progettato dei chip parti dei quali sono finiti in chip commerciali che noi abbiamo conosciuto Alpha credo anche in una parte di alcuni Spark quando erano ancora di Sun ma c'è tutta una serie di storie ma lì avevano un centro di design ma non sapevano produrre o producevano con tecnologie vecchissime non so se hai visto il chip quando facevano i cloni degli X86 a un certo punto disperati dovettero farlo con la finestrella nella scatolina perché doveva prendere aria perché bellissimo però l'avevano fatto quindi dicevamo la guerra allora io ho cercato di mettere insieme dei numeri indicativi un drone da guerra costa un milione due milioni di dollari un satellite non lo so dimmelo tu ci sono dei satelliti che costano poco però quelli che servono a noi costano boh qualche milione di dollari sì più sul decine o centinaia se sono per telecomunicare quelli di Elon Musk no quelli di Elon Musk costano poco la guerra adesso la fa no quelli di Elon Musk perché poi c'è il lancio perché il lancio è di solito 10.000 dollari al chilo è il suo modo Elon Musk sta abbassando molto con SpaceX questo costo qua ma il voto per pieno è quello un satellite per telecomunicazioni spia come i vecchi tempi è uguale decine o centinaia di milioni di dollari insomma l'ordine di grandezza ho letto delle dichiarazioni quando è stato ieri che Starship ieri Starship il terzo tentativo al terzo tentativo è partita quindi questo questo unico sostituto speriamo del Saturn di un razzo che può portarci da qualche parte beh no ci sono anche il Falconevi però effettivamente lo Starship potrebbe fare è quell'unico che c'ha a parte quelli appunto per Artemis che sta su quell'ordine là e stiamo a miliardi come dice anche Francesco quelli spia di cui Hubble era l'evoluzione solo che appunto non la punti sulla Terra stiamo sui miliardi però anche quelli se ne possono permettere relativamente pochi Starship hanno detto che è costato il lancio è costato 5 milioni di dollari no no quello il lancio di Starship sì sì quelli sono bruscolini e poi esplode purtroppo sai c'avevo qui sì sì ma era ma era anche lì era nel no lo sapevano era la cosa più probabile non è che si sono l'importante era che partisse che uscisse che andasse in orbita perché andasse in orbita che uscisse l'importante era quello era già partito altre volte che lo fosse il terzo no se era esploso prima era andata in orbita esatto il volo era se uno volesse pignolo suborbitale ma di design cioè era era un'inezia meno che andare in orbita perché volevano non volevano inquinare ulteriormente aggiungerei io lo spazio in orbita bassa adesso c'è tutta una una direttiva del del deorbiting dei satelliti noi adesso stiamo collaborando con i colleghi di fisica solare per un CubeSat finanziato dall'ASI e lì una delle cose è che devi prevedere che lui deorbiti entro 25 anni che non rimanga lì il satellite Pamela che era russo che era tipo un satellite spia ma anni 90 quindi non era un periodo tranquillo era per fotocommerciali che tra l'altro dentro abbiamo 40 lastre di tungsteno che quello non fonde dentro l'atmosfera però quello viene portato in orbita a 600 700 km la rimarrà per sempre perché lì non c'è più decadimento orbitale quindi però i numeri sono questi Starship vediamo un po' come va ma certo i costi si sono abbassati questo sì un sottomarino costa un miliardo una portaerei costa tra 1 e 10 miliardi una fabbrica di batterie per auto la gigafactory la gigafactory costa era tra 3 e 5 non 3.5 l'ho scritto io quindi ho sbagliato io allora anche qui bisogna vedere un po' una molto grande può costare anche di più però questo è l'ordine di grandezza una fabbrica di chip che fa chip scadenti può costare 2-3 milioni miliardi un milione miliardi perdona 2-3 miliardi una fabbrica di chip semiseria costa 10 miliardi le fabbriche di chip quelle che fanno la differenza costa 20 miliardi dollari ma questo vale è il costo iniziale io in basso a sinistra ho messo delle osservazioni poi quant'è il costo annuo come puoi prevedere l'aggiornamento tecnologico teniamo presente che tutto ciò che va oltre i tre ma al massimo quattro anni è fantasia di come aggiornamento tecnologico e quindi e poi quanto quanto durerà questa fabbrica perché magari per fare una fabbrica di batterie oggi c'è una chimica domani ci sarà una chimica leggermente diversa ma l'edificio i macchinari i percorsi i processi più o meno rimangono 70-80 90% rimangono stessi per 10 anni per i chip non è così se io tsmc non ti aggiorno per 6-9 mesi le fabbriche che ho a Taiwan e tu cina entri e io incidentalmente un paio qualche altra macchina non so formato l'hard disk per dire ti tolgo il suo per errore per errore eccetera eccetera dopodiché nessuno ti vende nessuno non viene nessun tecnico a spiegarti a fare un assessment di quello che manca non si può fare l'ordine a chi te li deve comprare le nuove macchine perché non te lo vendono eccetera eccetera tu lo fermi per 2-3 anni quindi questo quando quando parliamo di guerra barra tecnologia dice cosa stiamo facendo in Italia allora ero perché ho sbagliato ero alla presentazione dell'accordo dell'investimento dei cari amici di Singapore in Italia per la fabbrica di chip che deve sostituire l'investimento che doveva fare l'Intel e io vi posso dire dei numeri su Intel si diceva che l'investimento sarebbe stato di 4,65 miliardi con 1200 posti di lavoro e in Italia si e 3,4,5 mila per l'indotto e quello però faceva parte di un certo meccanismo che prevedeva che la fabbrica i chip li facevano in Germania da noi li assemblavano ora il packaging che vuol dire assemblavano scusa da una parte arriva il camion con gli scatolini dall'altra parte arriva il camion con i chip il packaging il packaging di assembli ok ora la fabbrica la fabbrica attuale la società è Singapore e grande metà Roma queste cose vanno dette perché lo stesso Miller nel libro parla di Singapore e della Russia come su due stati no è chiaro che quello che succede a Singapore non viene decretato a Singapore poi formalmente è singaporegno o singaporeano ora questa fabbrica che è stata annunciata è di 3,2 miliardi non si sa chi ce li mette hanno annunciato una fabbrica a regime completamente automatico che a regime avrà 1600 dipendenti non si sa quanti nell'indotto io poi sono andato a ravanare con il con il il sio proprio e me l'hanno tolto di mano perché io gli ho chiesto scusi ma questi 1600 da dove li prendete perché in Italia non abbiamo 1600 persone che stanno fare quella cosa e lui ha detto guardi li prendiamo in Europa e se non stanno in Europa e me l'hanno tolto per cui quando si dicono le cose poi con 3 miliardi di euro se avevi bisogno di una fabbrica se pensate di fare con Intel una fabbrica di assemblaggio anche questa sarà una fabbrica di assemblaggio ma è chiaro che è una fabbrica di assemblaggio tutti dicono è una fabbrica di chiplet no questa azienda che deriva dalla Marvel i tre fondatori dei quali due avevano fondato a suo tempo la Marvel e dalla quale erano usciti con evidente ignominia per motivi mai confessati sono usciti pur di non andare a processo penso io sono stati fermi qualche anno e poi hanno fatto questa nuova società e ha una tecnologia loro i chiplet li sanno fare non credo che con 3 miliardi li possano fare ma poi dove? perché ancora non è stato dichiarato il sito ci sono 3-4 siti che possono essere eccetera eccetera ci sono tutta una serie di cose che però non ce la fai una fabbrica di chiplet il chiplet è noi siamo abituati a vedere elettronica integrata quindi tutte ogni microprocessore ha tutta una serie di componenti che poi si parlano direttamente sulla stessa piastrina se tu li fai smembrati e fai le piccole piastrine ognuna che può evolvere in suo modo e trovi un sistema di interconnessione che non ti penalizzi o anche anzi ti avvantaggi puoi fare dei chip complessivi quindi degli scatolini complessivi con dentro una serie di chip in piano connessi bene alcuni impilati in orizzontale come le memorie altri impilati per altri motivi in altro modo quindi nello stesso scatolino ci puoi mettere più potenza con una serie di vantaggi di vario genere economico energetico eccetera eccetera quindi i chiplet noi li assembliamo qui però però c'è da dire che ci sono fabbriche che fanno mems chip tipo STM allora stavo venendo stavo venendo scusi scusi vengo con questa mia a dirvi adesso non me li ricordo tutti il PNRR ha finanziato quattro progetti di questo tipo due aggiornamenti di linee di produzione di STM a Catania uno a 30 mm a 30 cm 300 mm quindi il wafer grande che già c'era l'hanno aggiornato e un altro l'hanno aggiornato un altro a 200 mm quindi un po' più piccolo che sono quelli a 200 mm sono quelli che fanno le 60 fabbriche cinesi già pronte all'uso e che fanno in Germania per le automotive eccetera eccetera una fabbrica in Piemonte e non mi ricordo come si chiama adesso la famosa fabbrica che fu fatta ad Avezzano grazie a Remo Gaspari ministro dell'epoca mi ricordo un giovane giornalista che alla conferenza stampa della prima fabbrica fatta lì fece la sua domanda all'epoca si scriveva sul foglio tiravano un foglio scriveva la tua domanda e la Davia l'ha detto stampa e l'ha detto stampa poi la portava al ministro eccetera eccetera e la scena fu questa un giovane coronista ad Avezzano fece la sua domanda ah no tu un giovane coronista la presentò all'ha detto stampa e questo guardò la domanda strabuzzò gli occhi e gli strappò il foglio in faccia buttandolo per terra l'ha detto stampa l'ha strappata al ministro per evita che l'ha strappata al giovane giornalista al giovane cronista non è mai arrivata al ministro alcune fonti garantiscono che la domanda fosse ministro Gaspari dove sono Melchiorre e Baldassarre perché noi stavamo regalando dei miliardi per una cosa che era evidente che non servisse perché era una fabbrica della Texas Instruments che doveva farla in una zona sismica per vedere se funzionava e poi buttarla per replicarla a Taiwan cosa che è successa regolarmente quindi c'erano queste queste storie non è mai stato detto chi fosse questo giovane cronista ma forse un'idea ce la possiamo fare ma la fabbrica quella di Avezzano adesso è a funzione come come adesso è ancora in piedi fa queste cose sensoristiche qua e ha preso soldi dal due trecento quattrocento dal PNRR però meglio in Italia perché però c'è da dire scusa magari io la vedo da fuori la dico sbagliata però un po' come per il nucleare se c'è le competenze in Italia c'è comunque una scuola non ci avrai 1600 persone non puoi competere però almeno hai le competenze e il know-how per almeno secondo me secondo me secondo me in Italia le competenze per fare i chip non le abbiamo secondo me se non le abbiamo non le abbiamo mai avute secondo me in Italia ma questo chiaramente è un parere mio perché non non ce n'è traccia secondo me in Italia noi avremmo le competenze per fare i chip quantistici in una delle sette otto nove salse con le quali li propongono in più di una di queste che chiaramente non sono un business ma lì c'è fisica non c'è tecnologia esatto perché quella è ancora tutto in sviluppo in realtà ma lì c'è fisica e quella secondo me io tutte le volte che vado a questi incontri per i chip io personalmente mi sembra di stare proprio sa la torre di Babbelo ognuno parla nella sua lingua e tutti annuiscono è una cosa furibona per la fisica tu ti guardi e fai ma perché non lo facciamo vabbè è chiaro sai i professori quantistici potrebbero non servire ma per quanto un computing anche l'NFN ha preso parecchi soldi dal PNRR questo amico mio questo come sai è rilevante però ripeto quindi c'è una fabbrica un'altra fabbrica nel Piemontese in Piemonte c'è un'altra fabbrica che ha fatto una cosa molto interessante pochi giorni prima che l'Italia chiudesse un accordo con Silicon Box questo accordo per la fabbrica di Cipred perché verosimilmente si farà in Veneto ma si potrebbe non fare in Veneto più o meno la settimana prima la società piemontese ha chiuso un accordo per comprare una fabbrica in Malesia 5 miliardi di dollari di investimento ora la Malesia e Singapore è la sputazzella finale della Malesia cioè se va quasi a piedi tra una fabbrica e l'altra ora sarà un caso boh chi può dirlo però che andiamo a comprare lì a o vedremo comunque noi abbiamo un business a parte alcuni sensori alcune cose che STM che noi proponiamo come italiana ma che italiana ahimè non è che STM fa delle cose anche per l'iPhone qua le aveva fatte per alcuni giochi videogiochi seri eccetera però diciamo è cosa figa eccetera sicuramente STM potrebbe fare più di quello che fa adesso però noi abbiamo un po' di prodotti per l'automotive conto terzi per la Germania questo è un mercato di crescita l'Europa con il chips act sta andando in quella direzione non faremo chip abbiamo un chip apro una parente che chiuderò dopo per quanto riguarda il la produzione grossa è quella di supporto all'automotive e non ad altre cose io temo che avremo asfaltati dalla Cina dall'India e da tutta un'altra serie di iniziative però il progetto europeo si sa prevede di avere il 20% intanto dice che noi abbiamo il 10% che l'Europa ha il 10% dei prodotti microelettronici mondiali e già questa affermazione io ho mai trovato delle cifre che la confermassero nel 2030 dovremmo arrivare al 20% del mercato del 2030 e siamo qui non per vendere ma per regalare io già se mantenessimo quel 5-6% che abbiamo con il quale perderemo tutto già secondo noi sarebbe una buona cosa però scusa meglio che di nuovo è una questione di mantenere anche varie domande la Cina verrà con dei prodotti uguali che costeranno molto di meno sì 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 ma in un contesto poi appunto visto che stiamo parlando di guerre future passate future libri e così via in un contesto di competizione tu devi avere la filiera potenzialmente la filiera la filiera allora in Europa si fa molto affidamento sul fatto che noi pensiamo e noi normiamo una volta che tu hai i pensatori i fini pensatori che producono il design dei chip e hai un normatore che ti fa una legge una a caso lei ha i act se Dio vuole entrerà completamente in vigore tra due anni pensata quattro anni fa quando non si sapeva niente di quello che stavano facendo gli altri ma questa è una polemica inutile tutti l'hanno ne hanno parlato bene io per scrivere articoli ho dovuto praticamente riscrivere i comuni di stampa dell'Unione Europea che peraltro tre mesi fa aveva già annunciato di aver aggiunto senza voto questo strabiliante fatto dimenticandosi che deve uscire che deve essere doveva essere approvato che deve uscire in gazzetta ufficiale che ci vogliono due anni sono gli step intermetti vabbè ma questo noi pensiamo e normiamo quindi in qualche modo abbiamo sempre pensato Arme è nostra è di Softbank che curiosamente è già comprando ASML è nostra è l'unica fisica del mondo è quella che gestisce ASML che è una multinazionale con filiali con società che fanno perché anche anche fare le macchine è una cosa fantastica le macchine di ASML è fisica vera e c'ha dei subfornitori un po' in tutto il mondo ma soprattutto ha delle altre aziende grandi del gruppo in America e in Germania e quindi gli Stati Uniti stanno cercando di portarseli in casa ma aperta e chiusa parentesi non è detto che quella sia l'unica fisica che ci permette di fare dei chip avanzati e tra le altre si dovrebbe allargare il discorso adesso ma ci sono con gli elettroni ma non ci sono riusciti con gli elettroni ma ci sono altri tentativi adesso diciamo per esempio si dice che Huawei abbia fatto i suoi chip più recenti con tecnologia equivalente a 7 nanometri avendo soltanto macchinari a 14 perché il genio della lampada ha fatto due quando non tre esposizioni diverse quindi la produttività è ridotta ma riesce a fare dei chip comparabili ai 7 nanometri il genio della lampada metaforico e reale è un tizio che non mi ricordo il grande fisico perché la Cina ha dei fisici straordinari poi tu lo saprai insomma hanno investito moltissimo nella fisica fondamentale acceleratori se tu vuoi vedere il numero di brevetti che come dire la Cina non si misura con i brevetti secondo le regole brevettuali dell'Europa e degli Stati Uniti ma anche in quel senso stanno sopra se vuole via via stanno arrivando comunque ci ho detto l'Europa pensava di avere noi abbiamo gli arm che sono il core di tutta una serie di cose tranne quelli Intel quindi i server li lasciamo a Intel la produzione la facciamo a Taiwan che tanto sono vili meccanici e sono nostri perché li possiamo comprare e le macchine le facciamo noi quindi come siamo bravi non è vero non è vero per cui vedremo vedremo che succederà quello che voglio dire è che nella mia testa se tu invece di fare un accordo con Silicon Box facevi un accordo con qualcuno che ti faceva in Italia le batterie litio ferro fosfato ottenevi un risultato più lungo nel tempo più di vantaggio eccetera eccetera dopodiché la Germania ha le sue fabbriche di assemblaggio vedremo che succederà Intel si sta proponendo con dei suoi livelli di assemblaggio e per quanto riguarda invece la fascia alta dei chip c'è tutta una serie di cose da considerare quindi i chip intelligenza artificiale e intelligenza artificiale e HPC a prestazioni alte il quantum computer che però è ancora a livello quantum computer è a parte sono unità a parte io dico qui HPC per quanto riguarda l'HPC io non so quanta gente sappia che esiste un progetto europeo già in fase avanzata allora aspetta l'hai già detto però HPC sarebbe high performance computer non sono tornato sulla slide sì 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 sei tornato però c'è scritto HPC high performance computing quindi che vuol dire e calcolo parallelo super calcolo eccetera eccetera non vorrei entrare nella polemica dello straordinario centro italiano di Leonardo Leonardo gestito dal Cineca che ha 16.000 GPU di fascia bassa non di fascia alta di NVIDIA mentre Meta che già di suo ha una potenza equivalente di 240.000 GPU di fascia alta nel rapporto 1 a 1.5 quindi come se fossero 350.000 di quelle dei 16.000 di Leonardo e ne ha ordinate 360.000 per il solo 2024 e contemporaneamente ha mandato in produzione il suo chip MTIA di inferenza che si è progettata da sola e che le progetterà le produrrà con numeri perché poi tutte queste multinazionali questa quello che fa Tesla il progetto Doge eccetera eccetera noi non lo sappiamo perché i chip se li è progettati e se li produce lei quanti ne ha che ci fa non lo sai quindi noi stiamo a giocare con i pupazzetti non so se però 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 senti vero giusto però meglio il pupazzetto che niente no non è vero non è vero non puoi andare a dire che in Italia abbiamo il problema dei modelli di intelligenza artificiale in italiano sulla lingua italiana e quindi ne abbiamo due uno è questo questo qui che gira su Leonardo l'altro che lo farà Fastweb su un suo centro che sta realizzando con delle GPU su eccetera eccetera e poi l'università pullula non serve a niente OpenAI ha avuto un finanziamento di 10 miliardi non lo puoi fare i risultati non vengono non puoi comparare queste cose sono degli interessanti giocattoli ma non puoi compararli non puoi compararli che ci fai? allora c'è tutta un'altra serie di discorsi io sono d'accordo che dobbiamo averli però sarebbe secondo me più onesto dire siamo indietro non sappiamo se ce la faremo il giovane giornalista sta benissimo che questa cosa qua non si può dire ma se continuiamo ad andare avanti così se continuiamo a magnificare Leonardo che è un centro che usano in 100 e quindi delle sue 16 mila GPU se e quando abbiamo i soldi al modello dell'intelligenza artificiale italiana gliene diamo 160 tu capisci che non potremo parlare non possiamo parlare però per quanto riguarda l'HPC l'Italia l'Italia l'Europa ha in fase avanzata una cosa che si chiama EPI European Process Initiative che prevede un core HPC e delle GPU REA secondo un'architettura loro che non mi ricordo se arriveranno già nel 2020 REA che vuol dire REA non me lo ricordo credo che siano delle divinità ah no non è un acronimo non è un acronimo e per cui tra fine 2025 inizio 2026 dovremmo avere almeno la possibilità teorica di produrre in Europa dei chip di potenza sconosciuta da verificare per l'HPC che possono con un modello vecchio ma funzionante funzionare anche per il training delle intelligenze artificiali negli ultimi anni veramente mesi l'ho scoperto negli ultimi mesi però negli ultimi anni quelli che sapevano queste cose sta uscendo fuori che mentre per il training va bene l'elaborazione matriciale tensoriale parallela eccetera eccetera per l'inferenza siccome devi prevedere la prossima parola la prossima parola è un fenomeno seriale devi usare di nuovo delle architetture vecchie questa è una cosa interessantissima allora io ho fatto 7, 8, 10 articoli su tutta una serie di processori di questo tipo che stanno sono già disponibili in prova o nei centri d'Europa prodigi con chi ho parlato l'altro ieri perché poi mi intruppo perché ne ho fatti diversi e anche la vecchiaia non aiuta eh no quale non non tu mi hai citato il sito Grok che c'ha il processore Grok 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 è fighissimo ecco questo è magari intanto che tu parli lo prendo perché appunto è un po' come perché tutta tutta l'intelligenza artificiale l'abbiamo detto ma insomma va ripetuto eh si basa sul calcolo parallelo e quindi la GPU nasce poi sono state sviluppate ma insomma la GPU è perfetta per questo almeno fino a un certo punto e per però come per il sistema solare che tu per prevedere il passato e il futuro del sistema solare uno step avanti devi andare non è che puoi fare calcolo parallelo eh e quindi non ti serve a niente per la previsione dell'evoluzione delle orbite dei pianeti che sono caotiche per quella dell'influenza linguistica è la stessa cosa no? questo poi me l'hai spiegato dell'altro giorno è così quindi si sono fatti un chip loro questi qua tanto che tu Grok Grok mette a disposizione una velocissima una velocissima eh eh chat GPT eh un velocissimo sì un coso tipo chat GPT che però funziona su un'archi infrastruttura quindi su data center con chip proprietari eh sto condividendo delle cose aspetta eh no perché devi scondividere ricondividere devo scondividere quello era il condiviso adesso hai scondiviso tu sì ho scondiviso quindi adesso posso ricondividere eh condivido condividi schermo che schermo vuoi condividere allora vorrei questo questo ok qui per esempio questo è un altro discorso questi sono i Wafferscale e va bene questo però allora Tenstorrent per esempio eh vabbè qui sono le mie pippe mentali eh però l'ha detto l'ha detto l'ha detto l'ha detto il CEO di Tenstorrent Tenstorrent è una è un'azienda che ha fatto dei RISC-V che è un architettore un core tipo ARM e degli altri suoi per fare dei chip queste prima ha fatto delle schede poi si è sviluppato questo articolo è stato scritto insieme con l'aiuto di costui che me l'ha precisato e ha tutta una una famiglia di chip e adesso sta arrivando questo che è un cippone eh fantastico però tutti questi Wormall Black Hole e Quasar sono questi chip che stanno arrivando nei ehm data center anche italiani non posso fare i nomi perché a me Grace School ci piace perché ricorda a Castelli Grace School eh e questo signore ha fatto questa cosa quindi sono chip questi per il calcolo parallelo quindi questi sono questi sono per i machine learning dopodiché eh dopodiché eh eh qui chi abbiamo vabbè questi sono questi ancora non li ho studiati costoro efficient computing dice che fa dei chip che consumano fino a un millesimo dell'energia degli altri eh sì buonanotte eh non l'ho studiato non ti so dire ho soltanto eh ho soltanto rigirato quello che dicono costoro perché un altro parentesi se posso averla io è che ovviamente la legge di Moore negli ultimi anni non mi parlare della legge di Moore tu sai che per il progettista del è per il come dire io già già lo dicevo di mio lo chiesi anche a Gargini quando parlai con lui però eh la il progettista del Pentium 3 e di gran parte del Pentium 4 ha scritto un libro all'interno del quale la legge di Moore non esiste e ti spiega perché vabbè è la self-fulfilling prophecy come Mario diciamo self-fulfillment sì self-fulfilling sarai sarai console sette volte e qui l'ha fatto di tutto per diventare console la sette volte però resta il fatto che a frequenze più alte non ci si può andare perché sta nelle microonde e quindi è tutta ma la frequenza è già un problema accessorio già già non è vero che ma poi ti faccio una domanda molto bella che non ho fatto non so se ho fatto la slide questo è un articolo che mi sono messo addirittura a scrivere in inglese l'hanno tradotto le intelligenze artificiali ma insomma l'ho ricorretto ed è questo groc che non si scrive con il K ma con il Q infatti l'avevo cercato col K e mi viene tutta perché il K tu sai cos'è è da straniero in terra straniera di Heinlein è un termine ed è il titolo il nome usato anche dal motore di Elon Musk su Twitter infatti viene fuori Elon Musk esatto invece invece costoro hanno inventato la language processing unit che qualcuno un commentatore bravissimo ma qui ha sbagliato sta tesseria siccome c'era scritto che in un articolo che era light speed l'ha detto che era una light processing unit vabbè comunque questo è quello che ti dice ma guarda che noi lo dobbiamo fare parola per parola e loro hanno i loro chip che sono queste LPU LPU per essere più Linear Language Processing Language sono fatte apposta per il calcolo cioè non parallelo ma insomma per l'inferenza lineare questa è la famosa è la famosa microtest che ha comprato in Malesia vabbè queste si confonde ma ci sono altri chip ah il Techium Prodigy questo è un altro chip bellissimo che fa parte di un progetto IPCEI europeo quindi fatto dai fratelli ciechi io porto gli occhiali e quindi farà body shaming non lo so però anche questi hanno fatto i loro chip che anche questi sono usati in Italia da qualcuno e però sta nell'IPCEI perché perché il progettista di questa società Techium che è la società americana ma lui è slovacco è cieco non è slovacco è cieco è rado Danilac che ha lavorato per invidia eccetera eccetera e costui questo qua e quindi è riuscito a ficcarsi in un IPCEI quindi che sono questi programmi europei per i quali sostanzialmente si seguono e non si seguono le regole europee eccetera eccetera quindi ci sarà in Repubblica cieca un centro lasato sui suoi chip ma ce ne sono altri altri ne sto studiando ecco questo qui è Pirea dove l'ho fatto quest'articolo tanto Francesco dice che è Grok con due con due K no no ah tu su Heinlein si 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 Grok con la Q Grok con la Q eccetera 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 però vedi ecco questo è European processor questi sono i tentativi nel 2024 c'è ancora la GPP quindi sono gli acceleratori però il primo chip vero è Exascale System e nel 2026 in attesa abbiamo i Tachio ce ne sono tanti di questi qua che dovrebbero in qualche modo permettere io non so se noi siamo cosa siamo in grado di produrre qui in Europa io non lo so qualcosa dobbiamo furfare ma dobbiamo furfare se oggi apri una fabbrica di questo genere ci metti tre anni prima di fare prima di iniziare lo schelato se non la apri come con il nucleare però se non la apri se non cominci non voglio fare la difesa d'ufficio però io penso che non ho informazioni non riesco ad avere informazioni corrette io penso che le fabbriche Intel in Irlanda e la fabbrica Intel in Germania possano fare tutto e che altre non ne verranno messe però possono fare tutto e quindi va bene poi appunto TSMC sta portando non in Europa ma in Giappone e in quello che sta facendo in America è una domanda prima quello che sta facendo TSMC dovremo lo vedremo lo vedremo nel tempo in breve anche perché TSMC ha Warren Buffett che ha molta importanza all'interno di TSMC quindi in questo momento da quello che ho capito si sta cercando di far prendere a Intel buona parte del business di TSMC ma non ci riesce sta riuscendo a prendere dei contratti che sarebbero altrimenti andati a Samsung perché l'altra è Samsung ora la Corea del Sud credo che faccia 120.000 km2 quindi meno della metà dell'Italia o 120.000 km2 per 56 milioni di abitanti è più o meno la stessa popolazione e quindi è chiaro che ci sono delle cose che non funzionano anche lì la geopolitica è complicata faccio vedere al volo Grock con la Q qui gli avevo chiesto ti puoi scrivere insomma è rilevato però c'è da dire che è molto veloce cioè è molto più veloce di CACPT magari c'è anche meno utenti eccetera eccetera ma se uno dice che ne so can you describe non so una cosa a caso scrive molto più velocemente ora non l'ho non l'ho provato ma per tradurlo tu hai fatto varie prove comparate riassumimi il test estrami queste cose qui per cui sì sì no escono fuori io normalmente quando devo fare una cosa ne uso 5 o 6 faccio un po' di tentativi per ripulire il prompt e poi lo metto a Mistral Grock Gemini ChatGPT 4 5 e Bing AI e Perplexity 6 quello che è interessante è che ognuno ha una sua cioè nessuno è perfetto e ognuno ha una sua peculiarità c'è un punto non dico di forza ma insomma si vede che sono differenti come comportamenti personalità è una parola forte insomma anche lì la personalità di come è stata estratta l'ultima parola è una personalità non profondissima no ma secondo me questi casi sono straordinari e vabbè io e te era il 2018 quando ti ho detto vuoi far parte di questo libro tu mi hai detto ma veramente no e io gli ho detto devi far parte di questo libro ma hai detto di no ma che scherzi no non hai mai detto di no è vero però come dire il progetto lo mettiamo appunto tra il 2018 e il 2019 ma semplicemente perché io avevo trovato illuminante il libro di Kai Fuli si di Kai Fuli super AI with super powers super powers AI super power si deve stare da quelle parti c'è da dire che AI super power c'è da dire che infatti poi è stato ricicciato il taglio che lui gli dava era un po' troppo e bing che è il migliore cioè l'arena è quella massacratevi senza lui non diceva neanche questo lui diceva la Cina ha già vinto solo che ve lo devo dire con un po' di vaselina sì sì però a parte quello anche nel contesto cinese dice ci sono tante compagnie in cui anche se sei scorretto insomma va bene tutto perché così vince il migliore in una selezione iper capitalistica iper appunto darwiniana che insomma su quello magari pragmaticamente è così però uno può anche non essere d'accordo che debba vincere il più brutale perché allora ti ritrovi meta che non sa fa niente insomma non è che sia così scontato comunque il libro merita vale la pena se lo potete recuperare a prezzi ragionevoli a me piacquette piacquette assai sì c'era poi il diagramma dei lavori ma soprattutto c'era il diagramma bidimensionale che è la prima volta che vedevo un diagramma bidimensionale di cosa succede se noi facciamo a saperlo magari mettevo i nostri perché poi noi ne mettemmo una versione modificata sì perché lui faceva questo qui sulla creatività in orizzontale che facevano tutti e poi metteva in verticale invece il livello sociale se guadagnavi o perdevi con quella tecnologia nel livello sociale noi abbiamo messo anche delle frecce per indicare come nel tempo poteva variare questo cioè l'intervento dell'AI in vari settori di lavoro secondo due dimensioni e poi noi abbiamo aggiunto il tempo nel senso che se c'era qualcosa che poteva variare che poteva variare variava e c'erano queste quattro zone a rischio più o meno alto cioè uno è quant'è appunto il rischio di essere supplientato dall'AI e la creatività non si vede niente con quello no lo so però sono quattro quelle diciamo sono quattro aree perché sono due dimensioni quattro quadranti e quattro quadranti per definizione eccolo qua questo è il libro tuo va beh 2020 vabbè ma non l'hai chiesto te lo faccio io 2020 questa era un po' mi diverte mi diverte di più parlare del libro sulla storia dei microprocessori che praticamente sono le 240 pagine iniziali di di mille che ho cercato di vendere no no ma parlare non sta su Amazon ma lascia non so non credo che sia su Amazon sta su Lulu ma non è rilevante quello anche perché è un libro praticamente pre internet scritto prima è uscito nel 2000 la prima versione 2007-2009 all'epoca non c'erano i sistemi di traduzione automatica quindi dovete fare un sistema di traduzione a più traduttori per avere per spendere di meno tutto un macello terrificante e comunque era prima di internet adesso se tu vai su internet con un po' di pazienza o anzi se lo chiedi a Grok o se lo chiedi a Cagp ti dice delle cose che che però possono essere pure sbagliate no no c'è Cunica e chiede senti scusa come è messa l'Italia a livello di universitario cioè non tanto allora io non me la sento di parlare di questo io sono assolutamente negativo su questo punto ci raccontiamo un sacco di cose e io ti posso dire quello che raccontano delle persone nelle quali io credo molto e che dicono che siamo messi benissimo che ci sono due grandi progetti quelli che ho detto e 4-5 progetti universitari di grandissima qualità e che hanno per di più il vantaggio di essere impostati sulla mentalità italiana e sulla lingua italiana queste persone credono che questi sistemi saranno di grandissima importanza e di grandissimo rilievo per tutta una serie di cose che stiamo andando ad affrontare dalla normativa alla documentazione da tutto ciò che ha un pregresso le cartelle esattoriali le sentenze eccetera eccetera la sentenza si cerca già così perché no il lavoro che si fa adesso è completamente diverso allora quindi persone di veramente cioè non lo dico per retorica persone che a differenza di me queste cose le fanno dicono queste cose io non sono d'accordo ma la mia parola vale pochissimo in questo caso quello che mi sento di dire è che qualunque azienda che ha che deve campare altri dieci anni che pensa che camperà altri dieci anni deve avere come prima doveva avere il coraggio di mantenere un ICT interna e non l'ha fatto ed è andata sul cloud che doveva mantenere un settore di cloud engineering e non l'ha fatto e si è affidata a quello che avanzava dai servizi che non ha un settore di cyber security che è la stronzata più grande di tutte e non l'ha fatto qualunque azienda che vuole campare dieci anni deve avere in casa una infrastruttura quindi un server in qualche modo che fa il suo modello che prende un suo modello un modello open source ha dei tecnici che lo gestiscono e i suoi dati per ottimizzarli e migliorare li affida solo a questo perché come si dice adesso se l'addetto stampa della Ferrari per fare un lavoro migliore o per lui meno faticoso mette 100 documenti marketing Ferrari dentro a CiaGPT tutto il mondo avrà a disposizione le deduzioni di CiaGPT sulla Ferrari e temo che le deduzioni di CiaGPT nonostante tutti i detrattori siano molto migliori se ben usate delle deduzioni di ciascuno di noi e di ciascuno di quelli che hanno portato quei materiali alla luce quella pagamento è il 3.5 ancora 4 queste sono queste sono fesserie queste sono fesserie quando tu scrivi una cosa in quella finestrella quella roba è andata sì 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 così come è inutile lamentarsi perché Huawei aveva le backdoor per i sistemi perché ci spiava io vorrei sapere se poi non è mai stato dimostrato perché poi fatevi fare anche la la domanda è un'altra ma secondo voi perché altrimenti c'erano i prodotti americani ma qualcuno vi ha detto e vi ha garantito che i prodotti americani non avevano le backdoor quello è sicuro che l'InterCip aveva la backdoor quello è sicuro di Huawei non è sicuro su Huawei qualcosa anche è stato dimostrato però è irrilevante è irrilevante non è che voglio fare la difesa della Cina perché poi no no però 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 i fatti sono quelli che i chip il chip americano c'era il sotto chip no di quando è quello di oramai dieci anni fa che il chip di tutti i chip inter avevano un sotto chip che non puoi fare niente è venuta fuori è venuta segreta ma quella è venuta fuori la mia domanda è quante non sono venute fuori esatto perché quando Sairix riprogettò il 386 usò la metà dei transistor per vari motivi è come quando rimonti la cosa che la smonti ti avanza ti avanza un sacchetto di vidi smonti lo rimonti da che siamo un'ora e mezza smonti lo rimonti e ecco le vidi e quello lì dice ah ops ho fatto come da dei chip Sairix quella è andata proprio quella è fallita proprio tante ce ne ma Sairix fece l'innovazione quando stava per essere scavalcata da Next Gen perché Sairix riprogettò da cavo gli x86 con la logica dell'x86 Next Gen disse troppo complicato io faccio un processore RISC semplice e ci metto un interprete che legge x86 e lo traduce nel mio RISC e mi ricordo un giovanissimo cronista mi disse un altro che arrivò alla alla Next Gen e c'erano fuori le macchine con la targa nx586 nx686 e che bussò alla porta come 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 è successo per tante cose salve vada via non abbiamo tempo per nessuno stiamo progettando la presentazione stampa di domani al mondo dove presentiamo il nostro chip lei chi è? ma io sarei un giornalista internazionale venuto per sapere come? apro una porta e mi fanno devo avere anche le slide da qualche parte mi faccio tanta esplicita ero io ma dai che scadli ma non c'è arrivato nessuno chi l'avrebbe mai detto non lo sarei mai creso come si dice ma all'epoca eravamo coraggiosi eravamo andavamo a Richardson in Texas peraltro pagati dalla Sairix straordinario si sei andato anche a far stoccherare Sinclair mi raccontavi sì che però uscì dal retro quello scappò scappò dal retro era molto era molto saggio ragazzi siamo un'ora e mezzo direi che sulla I e sui chip ci dovremo come tante altre cose tornare sicuramente perché è chiaro che sta cambiando quello che c'è da dire che non abbiamo detto è che comunque la maggior parte della matematica è la matematica degli anni 50 quello che sta cambiando è la brutalità la forza bruta con cui si sta affrontando il problema ci sono una serie di tecniche nuove i transformer sviluppate da Google eccetera eccetera però la matematica è quella degli articoli del 48 del 50 non c'è una rivoluzione di concetto l'unico concetto è questo che puoi fare l'inferenza con i chip che non servono per il training ed è una cosa diversa quindi una volta che hai messo a posto il modello lo puoi replicare su chip di altro genere a quel punto puoi anche ridurre il numero di parametri quindi se questo procedimento funziona puoi mettere un motore inferenziale a pochi parametri nello smartphone nello smartwatch sì che non te lo vorranno mai far fare perché vogliono che sia collegato al cloud appunto qua c'è scritto Francesco Bello il cloud però perché ma il cloud il cloud il cloud dell'AI non per tonare è un cloud specializzato con questi chip dei quali parlavamo prima che ho fatto vedere sui quali sto scrivendo se Nvidia sta affrontando un sorpasso a sinistra che GPU che comunque non è detto che siano il miglior modello perché GPU non nascono per fare training nascono per fare giochi e metaverso tu vedi se Rise of the Machine Sironi l'ha creati e il videogioco sono creati quello che è però diciamo comunque sia indipendentemente dal sorpasso a Nvidia per quanto riguarda il training il fatto che ci sia una struttura completamente diversa e dall'economy anche dalla gestione del transistor council chip diversa per l'inferenza rispetto all'esecuzione rispetto al training è un fenomeno interessante il fatto che Grok questi comunque gente sta sviluppando chip convenzionali quindi non quanto un computing che hanno un'architettura differente da quella appunto del calcolo tra virgolette brutale parallela interessante perché vuol dire che poi sviluppare anche tutta una serie di codici che non è tensorflow cioè tutta una serie di oggetti che non ti devo raccontare niente o una filiera mia posso produrlo in tutta una serie di punti nel mondo senza dovertela raccontare troppo posso farlo se il conteggio di transistor o l'energia dissipata è minore posso farla a 14 o a 28 nanometri guarda non è esatto non è necessario poi spingere al massimo quindi le possono fare i cinesi perché il BAN non funziona a quelle tecnologie ma è tutta una serie di discorsi va bene io confido in numerosi commenti sì beh i commenti sono stati tantissimi non so se ce l'abbiamo detti più o meno tutti sui tempi ecco ce n'era uno di FI oltre al corso i tempi per essere realizzata la filiera l'abbiamo forse un po' detto cioè la filiera c'è una fabbrica diventa operativa in tre anni se va tutto bene e dopo il ramp up cioè all'inizio produce una quantità limitata di chip e poi a un certo punto quando ha fatto tutti i test scala verso l'alto chiaramente per una fabbrica di assemblaggio è di meno ma è vero perché il packaging è più più semplice quanto ci vorrà 9 mesi 12 mesi ma è troppo e via discorrendo però per fare fabbriche nuove in Italia non ne abbiamo di chip quali essi siano mettendoci tutto non ne abbiamo abbiamo rinnovato le fabbriche presenti ma quando tu rinnovi con 100-200-300 milioni hai aggiornato una filiera che già avevi prima quindi non guadagni mercato insomma non sei più competitivo di prima rimani a livello rimane comunque meglio che niente non è detto che debba essere ma siccome arrivano i cinesi devi fare più o diverso o qualcosa di diverso non è detto che debba essere di quello non lo abbiamo potremmo parlare bene o male di l'unico chip lanciato come tale in Italia ma non è il momento prossima puntata è tardi o presto ma comunque tardi ringraziamo l'eusorgio ringraziamo tutti quelli che grazie a voi per l'ascolto grazie a te per l'osservità saluto anche anche Gianco Alberto dove stava Bonisattva e vabbè alla prossima ciao buona serata grazie ancora a tutti